oggi un pop up astratto di david carter aguzzate gli occhi ma più che altro usate la vostra fantasia per cercare e trovare un 2 blu buon divertimento due blu abbracci di balenanti cespugli e un 2 blu nascosto danza di elefanti fantastici e un 2 blu brillante girandole di hippie inebriati e un 2 blu da toccare jojoba insermess luminosa e un 2 blu a pezzi melodia di note oscillanti e un 2 blu riflesso piramidi di quotidiani racconti e un 2 blu sommerso scenari di traballanti universi e un 2 blu rovesciato visione di vascello parmeriano e un 2 blu brillante brillante esplugati indian zona e un 2 blu camufato grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti